salve a tutti oggi vediamo come piegare un tovagliolo a forma di cravatta come quello che vedete perfetto per decorare la tavola per il giorno della festa del papà ovvero il prossimo 19 marzo io ho scelto di utilizzare un tovagliolo molto colorato per dare di più l'idea proprio della cravatta ma vediamo subito come fare prendiamo il tovagliolo e lo apriamo lo giriamo in diagonale e pieghiamo il primo spigolo così facciamo lo stesso dal lato opposto ripieghiamo così lo stesso facciamo dall'altro lato pieghiamo qui giriamo sul fronte rigiriamo sul retro e blocchiamo all'interno ed ecco che il nostro tovagliolo cravatta è pronto semplicissimo ma sicuramente a tutti i papà piacerà a presto ciao ciao